Il santuario di San Romedio è dedicato alla figura dell'eremita San Romedio, appunto, situato su un ripido sperone di roccia, nello splendido scenario naturale della Val di Non, nei pressi di San Zeno, ma nel territorio comunale di Predaia. Il santuario è costituito da cinque chiese costruite nell'arco di circa 900 anni, fra il 1000 e il 1918. Le cinque chiese sono state costruite a ridosso di una ripida parete di roccia e sono unite tra loro dai 130 gradini di una spettacolare scalinata. È visitata annualmente da circa 200.000 pellegrini ed è custodito da due frati dell'ordine di San Francesco d'Assisi. Le cinque chiese sono la chiesa antica e Sacello, un portale romanico e una madonna con un bambino benedicente del 1100 portano sul culmine della rupe, dove riposano i resti mortali di San Romedio, esposti nel Sacello dal 1120. La chiesa di San Romedio, costruita nel 1536 dai conti Thun, feudatari della Val di Non, davanti all'antica chiesa, accoglie i pellegrini presso il cuore del santuario. Custodisce la tela della deposizione di scuola veronese del 1695 e quella di San Romedio e Remita di Giovanni Battista Chiocchetti del 1905. La chiesa di San Michele, tipica cappella di conti e baroni, in stile gotico clesiano con volta botte, costruita nel 1513 sempre dai conti Thun e dipinta da Adriano Maier nel 1584. Custodisce un altare barocco del 1713. La cappella della Dolorata, benedetta il primo ottobre 1923, nasce come ex voto dei reduci della Prima Guerra Mondiale. Romedio visse tra il IV e il V secolo erede di una ricca famiglia bavarese, signore di un castello nei pressi di Innsbruck e proprietario di Saline nella Valle dell'Inn. Fu dopo un pellegrinaggio a Roma che decise di donare tutti i suoi beni alla chiesa, ritirandosi nell'emitaggio nella Val di Non, in alcune grotte esistenti ancora oggi nei pressi del santuario. Lo seguirono due compagni, Abramo e Davide. Si narra che un giorno, dovendo recarsi a Trento per salutare Vigilio, allora vescovo della città, chiese a Davide di sellargli il cavallo. Il discepolo tornò con la notizia che un orso aveva sbrannato il cavallo. Allora Romedio non si scompose e gli ordinò di sellare l'orso, il quale docilmente si lasciò mettere la sella, conducendo poi Romedio fino a Trento. Questo episodio è anche ricordato da una statua, l'Igna, posta accanto ad un arco trionfale all'ingresso del santuario e da un recinto per gli orsi adiacente al santuario dove vengono periodicamente custoditi degli orsi in cattività. Per oltre 500 anni la roccia che ospita il santuario antico rimase nuda con una scalinata scoperta e qualche edicola ora scomparsa. In basso si trovano le stalle, i rifugi per i pellegrini e l'abitazione del custode. La chiesa originaria intitolata a San Romedio sorse attorno al mille sulla tomba del santo con le pietre portate fin lassù dagli antichi pellegrini. Il culto a San Romedio venne riconosciuto ufficialmente dalla chiesa nel 1300 e la devozione al santo si incrementò molto nel 1400 quando il santuario venne affollato da molti pellegrini che portavano ex vuoto. Nel 1489 fu iniziata la costruzione della seconda chiesa dedicata a San Giorgio, poi nel 1514 fu costruita la chiesa di San Michele e nel 1536 la chiesa maggiore di San Romedio. Della stessa epoca del 1500 è anche il campanile sempre in stile gotico cresiano. Per ultima fu eretta nel 1918 la chiesa della addolorata in segno di ringraziamento alla Vergine per la quiete ritrovata dopo la tragedia della prima guerra mondiale. Nel 1700 vennero costruiti ex novo gli edifici al piano terra adibiti all'accoglienza dei pellegrini, alle stalle e ai finili. Le chiese vennero abbracciate con la costruzione dell'appartamento dei conti e del ballatoio nel 1725, della sagrestia e della biblioteca in alto. La seconda parte della scalinata venne coperta e poi animata con le edicole dei misteri della passione di Cristo. Sopra la cappella di San Giorgio si innalzano due stanze di abitazione e infine venne eretto l'arco ed ingresso al luogo sacro nel 1770. All'interno del santuario sono custoditi molti artistici ex voto del 1400, 1500 e 1600. In ultimo una curiosità, il primo agosto 1969 Renato Curcio e Margherita Cagol, futuri fondatori delle Brigate Rosse, si sposarono proprio al santuario di San Romedio.